Allora, oggi ho deciso di fare una recensione calda calda, ho appena finito di vedere Contagious, Epidemia Mortale, il titolo che abbiamo dato noi in Italia. Mai titolo fu più sbagliato di questo, cioè devia completamente, ma sappiamo che chi cambia i nomi li fa per un motivo becero che è questa cosa indispensabile che è il marketing, cioè voi guardatevi Contagious, Epidemia Mortale, vi ingassate Schwarzenegger, fate uno più uno, film d'azione, avete visto il trailer, zombie, sto virus, i virus vanno sempre di modi, si va al cinema, no, non c'entra assolutamente. Il titolo originale di questo film è Maggie, punto, e questo film in italiano dovrebbe chiamarsi Maggie. Avrebbe avuto più senso, secondo me avrebbe anche avuto più appeal di quello che è astronome italiano banalissimo, scontato e strassentito mille volte, ma vabbè, questo è l'unico difetto, ma non dipende dalla produzione reale, ma dipende ancora una volta dal nostro immaginarci che il pubblico sia più stupido di quello che è. Maggie, questo film è un film un po' diverso per Schwarzenegger, è un film, sì, possiamo dire che è un film sugli zombie, ma non viene mai nominata la parola zombie, perché se dici zombie allora diventa un film un po' mainstream, un po' da estivo, un po' da drive-in, no, e invece zombie non viene mai pronunciata, non viene pronunciata perché sminuirebbe tutto quello che è, secondo me, il progetto di questo film. Il film è veramente, veramente, veramente bellissimo. Io non sono un amante degli horror, questo non è un horror, è un film sulla famiglia, sui rapporti familiari, è un film che ti prende il cuore, te lo schiaccia pesantemente, fa un male cane, però è bello, o forse sono io che sono cresciuto, o forse, come posso dire, non ho più quella sensibilità di una volta, me lo sono visto stravolentieri, è un film in crescita, è un film che ha una discreta regia, per non dire meravigliosa, personalmente mi piace da mate questo tipo di regia, forse può risultare un po' noioso in un certo senso, se uno, come posso dire, l'arte del cinema è un'arte visiva, va visto, va capita, e qui ogni inquadratura è un quadro, è un quadro, ogni inquadratura, ogni sequenza, ogni immagine, la fotografia, le musiche, le musiche sono, accompagnano, è parte fondamentale del film, se avesse avuto un altro tipo di musica non avrebbe avuto la stessa resa, il suono, non solo la musica, tutto il suono di sottofondo, è un film underground, chiamiamolo questo vecchio termine, non è un film di nicchia, non è un blockbuster, assolutamente, è un film da festival, infatti ne hanno parlato parecchio di questo film ai vari festival, descrivendo questo Arnold Schwarzenegger monumentale, ho detto monumentale, ecco, sicuramente Schwarzenegger è inedito, questo Schwarzenegger è inedito, sicuramente è molto, ma molto, ma molto bravo in questo film, ma da qui a monumentale, non ce la faccio, ma come posso dire, ma non per mancarsi di rispetto, ma è arrivato al massimo delle sue qualità, ed è ottimo, niente da dire, non è monumentale, insomma, non gli darei un Oscar. Mentre ha la ragazzina, esattamente, mi segno un attimo il nome che non dico mai, che è Abigail Breslin, Abigail Breslin è la ragazzina, la ex bimba di Little Miss Sunshine, e qui è veramente strepitosa, è veramente strepitosa. Come dicevo, il film è un film in crescita, è un film che parte lento, se vogliamo, per poi esplodere lentamente verso la fine, è un po', non è che, non vi voglio spoilerare, tanto dal trailer bene o male si capisce di cosa si parla, è un film particolare in cui noi vediamo questa metamorfosi molto drammatica, ma non essendo il classico filmetto estivo, horror da cinema estivo, viene visto da un punto di vista... cavolo, voi vi state trasformando in zombie, e siete con la vostra famiglia, e questo lo vivete di minuto in minuto. Detto così sembra una stupidagia, ma vi garantisco che sto fin qua, mamma mia, è realizzato veramente bene, e quest'idea, secondo me, nonostante forse non è originale, ma non l'ho mai vista esplorata in questo modo. Se devo trovare qualcosa di negativo, logicamente è come se gli avessero ordinato, magari i produttori, o magari lui si è voluto togliere sto vezzo, ha dovuto inserire il classico effetto horror zombie, la classica scena da cui si deve saltare nella sede del cinema, c'è, ma non ci sta, è stata un po' una forzatura, ma, cioè, nella timeline della storia ci sta anche, però forse l'avrei evitata, ma sciocchezza, diciamo. Altro difetto, ma proprio perché cerco di trovarlo, infatti ci penso, è forse la parte del trucco. Non tanto gli espedienti con cui hanno raccontato questa storia con l'utilizzo del trucco, il trucco è fondamentale, il trucco è veramente fondamentale, però probabilmente, non so, chi ha gestito tutta la parte del make-up, forse era all'inizio, forse non aveva tutto questo talento, o forse ho visto io qualcosa che magari non mi ha convinto, ecco, insomma, le possibilità sono tante. Per me è un otto pieno, è bellissimo, non è per niente scontato, ci sono un paio di idee strepitose che mi hanno veramente accapponato la pelle dalla paura e dalla genialità dell'idea, e ho trovato un finale bellissimo che mi ha strappato non poche lacrime, questa è la verità, mi ha fatto male, ma mi ha fatto molto bene, spero finisca qui, spero che sia l'unico film, spero che non ne facciano mai un sequel, perché questa è veramente una piccola chicca, una grande chicca che spero che abbia il successo che verita. Bravissimi, bravissimi, bravissime. Maggie, al cinema si chiama Contagious Epidemia Mortale, ma sto film si chiama Maggie, punto e basta. Ciao a tutti, buonanotte.